Buon pomeriggio, sono Giancarlo Alberto, Marco Antonio e vi do il benvenuto all'interno di questo nuovo video del calcio al bar. E siamo di nuovo con Andrea. Subito con la domanda, caro Andrea. Che cosa è successo in Ferrari? Sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha accettato di venire in rossa dalla stagione 2025. Secondo te è una mossa giusta? C'è qualche perplessità? Buon pomeriggio, caro Giancarlo Alberto. Sicuramente è stata un'operazione lampo, ben condotta dagli uomini della rossa. Lewis Hamilton non ha mai nascosto il suo desiderio di andare effettivamente in Ferrari. È stata davvero un'operazione chiusa a ciel sereno, tant'è che anche la Mercedes è rimasta sorpresa delle tempistiche molto molto rapide. E sarà dalla prossima stagione il sette volte campione del mondo in rosso. C'è da dire che la sua esperienza può aiutare nello sviluppo della macchina. C'è da dire anche che la sua personalità potrebbe attrarre ingegneri e quindi aiutare la Ferrari ad avere maggior appeal. E sicuramente può anche aiutare Charles Leclerc ad avvicinarsi a quel titolo che agogna da diverso tempo. E chissà potrebbe anche essere direttamente lui competitivo proprio per andare a vincere il titolo mondiale. È sicuramente una mossa che porta anche un certo appeal da parte dei tifosi. Sappiamo quanto movimento d'opinione ci sia intorno a Lewis Hamilton. Insomma è una mossa che presenta molti pro però certamente presenta anche il contro. Quanto sarà in grado di offrire nelle prestazioni al team? Sicuramente ci sono tutta una serie di domande che vanno esplicate. Però negli anni una parte professionale di Lewis Hamilton che ad inizio carriera non si era vista è venuta fuori. E passo dopo passo attraverso la costruzione di un progetto vincente con la scelta del team giusto nel momento giusto è sempre riuscito questo ragazzo a venire fuori bene da situazioni complicate. Quindi per me è un grande colpo da parte della Ferrari. Sì Andrea la notizia era di quelle abbastanza clamorose per questo abbiamo aperto così e poi so che tu sei appassionato del mondo della Formula 1. Ritorniamo però al calcio perché domenica sera c'è una sfida che stuzzica le menti e i cuori di molti. Sì caro Giancarlo Alberto sicuramente la Juventus è costretta a far risultato a San Siro. Se non dovesse farlo, se non dovesse uscire almeno con un punto l'Inter potrebbe rimanere davanti e addirittura allungare a più 4. È prematuro parlare di Scudetto il 4 febbraio però al tempo stesso dopo il pareggio della settimana scorsa contro l'Empoli in casa questa partita diventa davvero cruciale per i bianconeri e per le proprie ambizioni perché l'Inter potrebbe legittimare il proprio vantaggio, potrebbe uscire indenne da un altro scontro diretto. Sulla carta partono favoriti i nerazzurri. Detto questo però sappiamo come i derby d'Italia possano essere decisi da un episodio sappiamo che molto spesso dopo queste partite ci sono tante polemiche sappiamo come anche un momento di distrazione, soprattutto in partite con così alta tensione, possa far la differenza. Sì Andrea se da una parte c'è chi si gioca mezzo Scudetto, dall'altra bisogna essere onesti c'è anche chi si gioca un pezzo di cuore perché lunedì sera il posticipo che chiude la giornata di Serie A vedrà impegnate Roma di Daniele De Rossi e Cagliari di Claudio Ranieri. Ranieri testaccino ha allenato Daniele De Rossi nel momento in cui 14 anni fa la Roma si stava giocando lo Scudetto contro l'Inter. Poi sappiamo che l'Inter in quella stagione conquistò il triplete. Come sarà secondo te l'atmosfera dell'Olimpico? Sì caro Giancarlo Alberto sicuramente è un'emozione unica. Lo sarà per Daniele De Rossi, lo sarà per Claudio Ranieri. Sarà una partita diciamo dai mille ricordi. Poi quell'anno lì la Roma non riuscì a vincere lo Scudetto perché appunto la Sampdoria si è proprio abbattuto in casa i giallorossi per 1 a 2 e quindi la squadra che aveva nelle mani il proprio destino se lo lasciò scappare. Sicuramente Claudio Ranieri sarà molto emozionato. Ricordiamo anche le lacrime che era presente proprio due anni fa per Roma-Leicester alla semifinale di Conference League di ritorno lui avendo allenato la Roma e vinto la Premier League con il Leicester. Però detto questo diciamo che è resa ancora più particolare questa sfida dal fatto che uno di quei giocatori e cioè Daniele De Rossi che allenava 15 anni fa adesso sarà sulla panchina dei giallorossi. Sicuramente Ranieri uomo tutto ad un pezzo, un'emozione particolare sempre all'Olimpico perché comunque Ranieri è accolto bene, ha lasciato un bel ricordo, tutti hanno impressa quella vittoria della Premier League con il Leicester e tutti ancora si ricordano di quella stagione che poteva finire magicamente per la Roma. Quindi sarà veramente un ambiente credo caldo e che tributerà tanti onori allo stesso Claudio Ranieri. Ok Andrea, adesso passiamo alla domanda provocatoria e a un saluto al pubblico. Sì caro Giancarlo Alberto, la domanda provocatoria di oggi è questa. Secondo voi c'è il rischio che Lewis Hamilton in Ferrari venga a prendere la pensione? Il bar è sempre aperto.